Eh, me... Leggi, a leggere! Ti capito? Leggi di uno libro, leggi di qualcosa! Ah, perché non vai a una scuola serale? Stando alle scuole serale. Ti ricordo? Come? Non mi ricordo. Quando prima faceva, pure per la revisione, faceva, non è mai troppo tanto. Ah, perché io ho la casa... Non è mai troppo tanto. Ma perché la scuola non la fai testa, in suo piccolo. Non voglio, no. Ma perché la scuola, io so che è buono. No, no, tu signorando, tu devi studiare, ma devi studiare, tu sei signorando. Ah, è passato la vita nostra, non se i videogiochi... Ma quello è... Ma quello è a coloro, come lo dico? No, bianco e nero. Bianco e nero? Ma perché stanno a coloro? A coloro. Ma è una vita che esce a coloro. Ma che va a coloro? Ma tu pazzia. E' un gioco Mario, si chiama, che mi diverte assai Mario. Stai ancora con Mario, uno dei primi gioci... E' la cassetta. E' la cassetta che stanno 100 giocchi sopra e vuoi avere questo? 100! Mi dico solo tutti i giocchi, nemmeno faccio sempre lo stesso. Poi è stato che la bella lente di ingrandimento che si mette un coppo a schermo, che tu non dici che tu sai... Eh, che si vede bello rosso rosso, si mette la coppa, si monta, no? Eh, musica, dei colori... Non c'è la stessa musichetta che... Ma poi avrei i colori, avrei che son qua. Gesù, sono rimasto proprio a lei. Sapice, sta luce rindana, sta lente di ingrandimento, che uno può pazziare pure in te lo scuro. E' bellissimo. Eh, bene. Ti capite, questo è un... Ti capite? Questo è un scherzo. Questo è un scherzo. Si mette sta lente, che c'è pure la luce, e ti illumino tutto. Uno può pazziare pure in te lo scuro, in te lo lieta la sera. Ti capite? E' una massicchetta. Eh, dimmene per la lente, ma... Tu che ne sai? Io leggo. Io leggo. Ah, leggo. Ah, leggo. Leggi, andrei. Arrivederci, arrivederci. Ah, vabbè, la prossima volta, va bene. Arrivederci, buona cosa, buona cosa. La prossima volta, eh? Gesù, cosa è pazzo. Ma io non mi metto in scuro, ma guarda, con la macchina e quella. Chi le viene meno, viene a casa e fa... Si ha fatto pure manicure. Eh, si ha fatto pure manicure. Manicure, barba e sciamba, frizione e capelli. Chi le dice? Ci vediamo la prossima volta. Donnerri. Ma la gente è senza più dubbi, no? Si ha potuto mettere addirittura un smalt rinforzante. Rinforzante. Cioè, sapete che a me mi costo doppio? Chi le alla fine fa figliere il mare, ne manca mangio. Vabbè che dice manicure per la prossima volta? Me la mangio. E ci hanno fatto una bella cruce. Ma io, io, Gio Sacci, perchè questo era cliente di un salone dove io lavoravo precedentemente. Chi la seconda volta? Che bene è qua? Mi lavoravo solito, pure una casa sociale. Ma vero lo sai? Ha tutte e due case, perchè chi si ha due mugere. E ha tutte e due parti, no? Tiene tre televisioni. Donnerri. Si mette un cuofono e belli vestiti ancora. Addirittura poi è pure presidente di una squadra di pallone, una squadra di quartiere, non lo so. Si 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 si. Si mette sempre questi belli vestiti, si mette anche questa bella macchina. Se chiesto un bello sorriso smagliante, si può farla buona la prossima volta. E fa riempare, torno a torno, si va facendo una spesa chiesto. Allora non è che staglini i soldi, è tutta una... E tutta una montatura, è tutta una cosa di... Un scemanfu. E la gente si fa fa face, perchè si è pievincendo tutte le ocche allora. Io ho già pensato che chi è venuto qua? A donna Ernesto? Non ce lo fa. E invece l'ha fatta pure a voce. Gesù, 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 Gesù. E ha pensato a voce. Ma che cosi è? Cosi andiamo avanti. E si va andando con... Con il... E chiaccia? Con il suo afferro. Capitano? E la gente si è chiesto, e si dì per lo che vanno andando. Questa gente che va avanti con l'immagine. Con l'immagine. Con l'immagine. Si spende l'immagine. Avete capito? Ma no. Mi faccio pure io il sorriso, bello splendente, entro e poi faccio un riempito, torno a torno. Comunque la prossima volta che be', sentite, dobbiamo togliere prima il vecchio e poi facciamo noi, non arriviamo con questo. Ma la prossima volta, se non mi faccio, c'è taglio proprio le mani. Ma avete capito? Ma quando la conferenza, chi ci ha fatto? Cioè io non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. E che giornata, abbiamo cominciato? Comunque, guarda chi stavano noi. Ossego Cavaliere, tenetemi presente. Come ci sono? Leonardo. Ehi, un cavallo, un cavallo. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Leonardo. Aspite, questo è un cliente nuovo, è nuovo, è rimasto che lo vede qua. E la seconda volta che be', noi. E speriamo che abbia in più, sciogliere e fondere pure, speriamo che abbia in più. te lo devi tenere buono eh, questo qui. Sì, chi lo ha pavato, lei lo ha già tenere buono. E noi ci siamo aiuti, il tuo consiglio di quartiere, il presidente circoscrizione, e di me che ha tutto al favore suo, mi devi credere. Se la sistemando, almeno così ha detto, che sistemare il quartiere lo farà diventare nuova di zecca. Ho capito. Io onestamente, ti lo hai ricordato buonemi, ma quello... Chi lo piglia il salto con Sparani che è bravo? A piazza assoluta, apri me!